no e ben tutti ragazzi sono il canone e ben tornati a questoissimo video vlog oggi con questo tizio con una sega a mano e colato dietro che sei in boscato è uguale non ce l'ho ci cercherà di andare all'ospedaletto qui in Vila Corridi si è capito se mi fa fare il video cazzo niente ci si vede fra poco perché sono trabarcata John Way, John Rambo qui siamo ecco raga si trabarcherà qui e ci si vede all'ospedaletto un pochino prima bella raga abbiamo trabarcato ci stavo avvicinando sempre di più mi sento ancora pucci di merda Gabriele che scurri è questo V raga siamo arrivati di sera fa più paura però raga vi assicuro di sera fa più paura ora non so se lo vedete raga è questa struttura è questa struttura V e da fuori non fa paura però se ci vieni di sera cazzo si però un po' di anza te lo mette raga niente ci si vede dentro però ci stiamo cadendo sotto perché ci sono tutte le scritte le facce lì c'è anche il mongolo dei Gabri lo so agli esti di Gabri guardate sopra come fa più paura sopra Gabi mi vuoi sapere carelli eh bimbi ti trovi uno da dietro cazzo ti trovi uno da dietro e fa così tu un cartellino bimbi uno sta davanti e uno sta a mezzo e uno sta a dietro e uno sta a mezzo quello dietro muore prima io vado a mezzo io sto davanti e ti guardi dietro a parte quello dietro c'è da te perché c'è il quartellino no devi sta davanti no si perché c'è da uno si ma eh vuoi il quartellino? beh che è mio però che poi io non so se non ho sentito anche loro io sentivo cantare la musica però allora noi dobbiamo farla riuscire subito perché bisogna riuscire a darla lì eh so ma a parte che c'è la scuola qua accanto ci stanno i bimbi ci stanno i bimbi e parlano io so ma andiamo e poi volando basta che urli e ci sono quelli che lavorano e poi che ci sia la fiera delle rapide il pomeriggio no la sera ci sono no il pomeriggio non credo no la sera quando non c'è lavoro nelle scuole chiuse c'è una scuola aperte c'è una scuola aperte andiamo ora andiamo ora cazzo di che racionamento è che qua la scuola chiude o morire o morire ora o dimmi alle 5 la scuola chiude fra un quarto d'ora dobbiamo andare e un quarto d'ora non poi c'è tutto lo spedetto da non ci rifiuto beh intanto vai lì e intanto vai lì e intanto vai lì cazzo no che gente è stupida ce l'abbiamo la sentito anche se eh no ho visto un no cazzo riazzo Dario cazzo spingi ha visto uno sto qui no 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 e scambiagliari no capito inarnia io eh no 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 ragazzi ho l'ansia no ragazzi ho l'ansia sto anche sudando d'inverno cazzo insomma ci vado? non vedo assoluto non ci vado venite anche voi veniamo zitti zitti cos'è questo che è scrittivo sono gli uccellini dai ma io credo che ci abbia mandato via eh ci abbia già fatto paura se volevano se c'era qualcuno no raga io sto per vedere ci trovava poco perchè ma all'entrata lì c'è la camera tutte le scritte me le faccia a mano no bimbi io me levo non correte cazzo no ti sentano ma che cosa fai? non ho fatto tanto parlare ci sono pia ce le spine cazzo oh e tu mamma mignotta beh raga primo tentativo è andato perso ci cagli un po' ma non ti fanno un cazzo no beh raga ora ci trova la barca ci trovo dopo raga all'ospedale non ci siamo andati ma siamo passati in un altro posto abbandonato uguale e niente così per cazzeggiare e girare un po' per qui beh vabbè poi si è visto questo boschettino qui che praticamente ci portava o al cage o alla scuoletta qui di fronte vabbè e ora basta si va via così perché tanto l'ospedaletto ci siamo andati perché ci si cava in mano si no anche se ti cavi qui e niente ci trova dopo faccio l'altro bello il video finisce qui di sicuro non c'era nessuno appunto iscrivetevi lasciate mi piace e noi ci vediamo al prossimo video bello a Grazie a tutti